Siamo arrivati all'Hotel Principe per l'evento For Pets Creator, ma ho combinato un guaio, ho dimenticato le crocchette di Ares e non so davvero come fare, perché lui non mangia altro all'infuori di quelle. Speriamo che qui in albergo abbiano una soluzione. Ares, che cosa vuoi? Ci sono le crocchette al maiale? Non penso proprio! Quelle al pollo? Nemmeno quelle! E allora che cosa vuoi? Da questo scatolone! Esce un buon profumino! Aspetta che guardo! Questa è la famosissima pappa di Dogfai! Guarda quanti gusti che ci sono! Io ho salto questo, a me piace il manzo, questo è mio, nessuno me lo rubi! Meno male, Dogfai ci ha salvato, se no non so come avremmo fatto! Questa fica è una pappa buona! Grazie, Dogfai! E ora che ho assaggiato questa pappa buona, non voglio più le mie crocchette!